Ancora un tassello, un passo avanti importante per la riqualificazione dei due ospedali fondanti dell'azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona. Dopo la costruzione del nuovo blocco chirurgico è ora addirittura d'arrivo la realizzazione dell'ospedale del bambino e della donna a Borgo Trento, dal quale la città scaligera e non solo, si aspettano molto. Sarà un servizio dedicato innanzitutto, secondo poi, se parliamo di velocità e di erogazione delle cure, è già previsto un fast track, cioè un passaggio rapido, in particolare per quanto si tratta di pronto soccorso e pediatrico e a livello ginecologico. Con la nuova apertura del padignone dedicato alla donna e al bambino avremo delle cure dedicate sia alle mamme che ai bambini, quindi sia alla pediatria che alla ginecologia, oltre che alla maternità, che è un evento importantissimo, più rapide, più snelle e sicuramente più specialistiche nella fattispecie proprio per l'ostetricia, ginecologia e pediatria. E se da un lato la moderna struttura in linea con la programmazione regionale punta dunque ad efficienza e rapidità di intervento, dall'altro forse il tallone d'Achille rimangono viabilità e parcheggi? Ma diciamo che il problema di parcheggi lo stiamo risolvendo. Abbiamo acquisito una caserma che dedicheremo al parcheggio, è stata acquisita a costo zero, fra l'altro, al demanio statale, quindi quello è un ulteriore risultato che dovrà essere abbinato all'azienda ospedaliera e al servizio regionale per quanto riguarda la sanità. Secondo poi direi che quest'azienda ospedaliera si trova in un centro fortemente antropizzato, perché ricordo che Verona fa 250.000 abitanti, quindi un quarto rispetto a quella che è la popolazione della provincia. Parallelamente al progetto riguardante la nuova struttura, in grado di dare risposte sempre più qualificate ai bisogni di mamme e bambini, si continua a lavorare sull'ospedale di Borgo Roma, per il quale la conclusione dei lavori di ampliamento si fa sempre più vicina. Stiamo rispettando quella che è la programmazione sanitaria fatta nel 2012 e che adesso rinnoveremo, perché a partire dal 2016 dovremmo rivedere quello che è il piano sociosanitario. Siamo assolutamente lineati con le nuove tecnologie e visto considerato che parliamo di azienda ospedaliera, quindi di servizio sanitario regionale, io direi che siamo all'avanguardia come stiamo cercando di riallineare sia per quanto riguarda la qualità dei servizi, sia per quanto riguarda le cure alogate sul territorio oltre che in ospedale, tutta la sanità veneta.